a tutti i motociclisti 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 Alla chitarra solista Giorgio Pampetta Dai che cos'è la chitarra Allora La nostra possezza Daniele Galli letto alto al basso Allora Direttamente da un po' All'altra chitarra Marco Tequila Marco Metti la chitarra Allora Direttamente da Bocotà Con tutti i suoi suonari Giorgio Martino e Sandino Ghetto E Cigliana Giovanni Danda Non passa questo punto Bravo Adolcichiamo E adesso il nostro punto di forza Marco Sabi E adesso voglio andare a parceria Ghetto Ghetto E adesso voglio andare a parceria E adesso voglio andare a parceria Ghetto E adesso voglio andare a parceria 號o Grazie a tutti 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 Grazie a tutti